Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo in forma, la nostra rubrica settimanale dedicata al comune di Montemurlo. Iniziamo questo appuntamento con una bella storia, compie 30 anni e dona altrettanti alberi da frutto al comune. Il montemurlese Cristian Musotto ha voluto festeggiare così il suo compleanno con un pensiero per la comunità. Gli alberi da frutto sono già stati sistemati lungo le piste ciclopedonali. Cristian Musotto ha voluto festeggiare il suo compleanno regalando alla sua città Montemurlo 30 alberi come i suoi anni. Cristian ha donato gli alberi affinché l'amministrazione comunale provvedesse a piantarli in prossimità dei percorsi pedonali con l'idea che le persone nel corso di una passeggiata possono anche ristorarsi e raccogliere della frutta. Proprio perché era il mio trentesimo compleanno volevo fare un gesto dedicato al comune di Montemurlo e quindi donare 30 alberi proprio come il numero degli anni che compievo. Mi faceva piacere fare un gesto che potesse risultare utile sia all'ambiente che ai cittadini, anche per i bambini, per poter conoscere anche i frutti del nostro territorio. Cristian ha cercato di fare un gesto utile all'ambiente e ai cittadini, in particolare pensando anche i bambini, in modo da poter imparare a riconoscere le varie piante e a raccogliere la frutta durante le passeggiate. Gli alberi da frutto delle seguenti specie, sorbi, ciliegi, duroni, albicocchi, meli, peri, susini e peschi, sono stati piantati in varie zone della città lungo le piste ciclopedonali e i frutti saranno a disposizione di tutti i cittadini che le frequentano. Allora, questo è uno dei quattro posti in cui abbiamo deciso di collocare 30 alberi che il signor Cristian Musotta ha deciso di donare all'amministrazione. Qui accanto agli orti urbani, ma soprattutto qui accanto a dove sorgerà un passaggio ciclopedonale di collegamento con il comune di Montale, proprio per far sì che i cittadini durante le loro passeggiate a piedi tra i due comuni possano subito incontrare questo piccolo punto in cui saranno presenti questi dieci alberi. Alberi da frutto di diverse specie, meli, peri, albicocchi, peschi, proprio perché grazie alla donazione di un nostro concittadino tutti i cittadini possano fruire dei frutti che proprio in questa area, come nelle altre aree del territorio, quindi lungo le nostre piste ciclabili, nasceranno nei prossimi anni. Gli altri 20 alberi sono già stati collocati, 5 presso la pista ciclopedonale Rosa Parks che collega via Ricasoli con via Selvavecchia, 10 lungo la pista ciclabile Teresa Mattei che costeggia tutto il torrente Mel Dancione, mentre altri 5 sono stati collocati in via Riva in un'area verde in prossimità dell'area con le sculture in legno. Anche il sindaco ha sottolineato l'importanza del gesto di Cristian che denota attenzione verso la collettività, un gesto che oggi non è scontato e dimostra senso civico. Questo è un bellissimo gesto di un nostro cittadino che ha voluto donare questi 30 alberi da frutto e sicuramente denota un'attenzione nei confronti della collettività, di tutti i cittadini, di tutta Montemurlo e quindi per questo lo voglio ringraziare, lo ringrazio caldamente perché non sono sicuramente gesti scontati e dimostrano quello che può essere l'impegno anche civico delle persone che magari hanno ogni tanto e per fortuna accade spesso un'attenzione nei confronti di tutti e della collettività. Intitolato a primo levi il giardino di via Raffaello a Bagnolo, un intervento del valore di 20.000 euro realizzato dalla ditta Anteprima Tessuti grazie alla convenzione stipulata con il comune di Montemurlo. Un nuovo spazio verde in connessione tra la zona industriale e quella residenziale a servizio delle famiglie e dei bambini che così avranno finalmente un luogo di gioco e di aggregazione. E' il nuovo giardino di via Raffaello a Bagnolo nato dall'esigenza dell'azienda Anteprima Tessuti di risolvere un problema logistico, un intervento del valore di 20.000 euro realizzato grazie alla convenzione stipulata con il comune di Montemurlo. E' un'area verde che si inserisce in un'area che è di confine tra l'area industriale e l'area residenziale, quindi è proprio anche un polmone verde di connessione tra le aziende e le residenze, un posto per far giocare i bambini in tranquillità in un'area in cui spazi per la collettività, spazi per il verde solitamente nelle aree industriali vi se ne trovano poco e quindi attraverso questo giardino abbiamo voluto rendere uno spazio alla collettività in un'area che non è prettamente dedicata alla residenza. Un nuovo giardino in una zona che fino adesso non era dotata di aree attrezzate, in particolare con aree gioche per bambini che quindi va a rispondere all'esigenza di sempre maggior cura del territorio e di spazi a disposizione dei cittadini, dei bambini o dei più anziani e in questo caso unisce anche un'attenzione ai residenti da parte delle nostre attività economiche perché è stato realizzato grazie all'impegno di un'azienda del territorio, Anteprima Tessuti, che ha pensato a questo luogo nell'ambito della soluzione di un problema logistico che ha vissuto e che è stato risolto insieme all'amministrazione comunale. L'azienda Tessile un paio di anni fa aveva presentato all'amministrazione comunale la richiesta di poter acquisire il terreno per realizzare una nuova uscita carrabile in corrispondenza del parcheggio pubblico su via Bramante. In cambio della cessione dell'area pubblica necessaria alla realizzazione della nuova strada l'azienda si è impegnata ad attrezzare il giardino pubblico con giochi per bambini e arredi. Noi come azienda da sempre crediamo nel ricambio generazionale, nei giovani e quindi noi abbiamo pensato e insieme al Comune di creare questi bei giardini davanti alla ditta di modo che sia il lavoro che una crescita felice dei bambini possano essere un agglomerato giusto in mezzo a quest'area residenziale. Nell'occasione il Comune ha intitolato il nuovo giardino a Primo Levi, scrittore che attraverso le sue opere ha fatto conoscere l'orrore e l'inferno della deportazione dei campi di concentramento, una intitolazione che rende omaggio anche al nonno di uno dei soci di Anteprima Tessuti, il montemurlese Erasmo Meoni, deportato a seguito degli scioperi del marzo del 1944 e morto nel campo di concentramento di Gusen in Austria. Io avevo un babbo nella resistenza, lui ha avuto un nonno che è morto in campo di concentramento e quindi tutto è una cosa che veramente ci rende orgogliosi. È arrivato anche a Oste il mercatino della filiera Corta, tanti clienti in piazza Mendola a fare la spesa tra i banchi dei produttori locali per il primo giorno dell'iniziativa lunedì scorso. Il mercatino della filiera Corta di Campagna Amica proda anche a Oste. Su forte sollecitazione dei cittadini che già apprezzano l'appuntamento del giovedì mattina a Montemurlo, i banchi dei produttori delle aziende agricole del territorio sono arrivati anche in piazza Mendola. Ogni lunedì mattina quindi anche qui spazio al prodotto a chilometro zero. I cittadini di Oste troveranno un mercatino di filiera Corta, tutti i prodotti del territorio, della zona troveranno ortaggi, frutta, uova, l'olio che ora è anche il momento di un buonissimo olio di tre aziende agricole. Trovano i formaggi, i formaggi sono di Migliana, formaggi meravigliosi. Chiaramente è una grande opportunità per gli ostigiani perché possono così consumare dei prodotti veramente fatti prodotti con impegno, con scrupolosità, perciò veramente il contatto diretto fra il produttore e il consumatore. L'altra opportunità anche per i produttori che si amplia anche per loro un nuovo mercato. È un bel successo, un bel successo dell'amministrazione e un bel successo anche della filiera Corta perché sono tutti soci della filiera Corta. Per ora sono cinque le aziende che partecipano al mercatino della filiera Corta che mette in collegamento i cittadini con i coltivatori ma presto ne aderiranno altre. Per noi promuovere il territorio ormai è consuetudine farlo con la filiera Corta di Montemurlo. In questo periodo storico dove facciamo fatica a fare promozione perché sappiamo tutti che le normative anti-Covid non ci permettono poi di fare tutte quelle iniziative a chiuso. Continuiamo con il mercatino all'aperto per far conoscere i nostri prodotti di qualità e per far conoscere un territorio, un territorio che oltre a essere olio, oltre a essere prodotti dell'anogastronomia è anche storia. Per questo coniughiamo la storia alla promozione del territorio e ai prodotti è il nostro obiettivo massimo. Lo continueremo a fare in piena sicurezza sicuramente con eventi all'aperto nei prossimi mesi. E per questo appuntamento è tutto. Montemurlo Informa torna la settimana prossima sempre di venerdì alle ore 20 e 05. Buona serata.